Musica Benvenuti ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Quest'oggi siamo a Roccaravindola in provincia di Sernia in occasione della Festa della Pizza organizzata da Pizza Più in collaborazione con COF Roccaravindola. Allora tanta gente in questa seconda edizione qui a Roccaravindola, allora venite con noi e andiamo appunto a scoprire anche qualche segreto per fare un'ottima pizza. Ed eccoci in compagnia con uno degli organizzatori della Festa della Pizza, seconda edizione. Allora come sta andando una seconda edizione che segue una prima, devo dire, di grande successo? Ma devo dire che sta iniziando ad arrivare gente, la prima edizione è stata un successone e speriamo che anche questa seconda sia lo stesso anche, anzi cercheremo di fare ancora più pizza. L'obiettivo è quello delle 2000, anche se è parecchio ed è molto difficile, però ci proveremo dai. Ecco il tempo clemente per fortuna questa sera di questo luglio ci ha lasciato in pace affinché voi appunto possiate preparare tantissimi gusti di pizza. Allora intanto qual è l'ingrediente fondamentale che diciamo i nostri utenti che sono venuti qui questa sera potranno appunto assaggiare? Qual è ecco il segreto della vostra buona pizza? Beh io penso che il nostro punto di forza sia la lievitazione e maturazione perché abbiamo cercato di far capire alle persone che una buona pizza deve essere lavorata in un certo modo e con un certo criterio. Calcoliamo che noi lavoriamo dalle 72 ore a salire quindi per dare una pizza più leggera possibile, altamente digeribile e comunque con prodotti di primissima qualità che per noi è proprio il fiore all'occhiello questo. Poi diciamo che cerchiamo sempre di accontentare un po' tutte le richieste dei clienti e devo dire che abbiamo una clientela molto affezionata ma anche molto diciamo attenta a quello che mangia e quindi diciamo che cerchiamo di fare del nostro meglio. Ecco siete un team numerosissimo praticamente ai fornelli anzi che dico i fornelli al forno visto che siete lì già da diverse ore a far roteare i pizza e diciamo la specialità del successo della vostra seconda edizione della festa della pizza per quest'anno sarà non solo un team affiatato ma probabilmente anche uno spettacolo che vedranno appunto il pubblico e vedere il pubblico che è intervenuto. Diciamo che dopo l'esperienza al campionato del mondo e al campionato assoluto di pizza italiano a Fiumicino abbiamo preso la decisione di formare un team acrobatico nostro e di iniziare a far avvicinare soprattutto i ragazzi giovani che purtroppo col periodo che c'è nel quale non si trova molto lavoro diciamo il mestiere del pizzaiolo è ancora un forte richiamo quindi invitiamo tutti i ragazzi a venirci a trovare perché a settembre, intorno a metà settembre, fine settembre nascerà il team Pizza Più Regione Molise che si prefigge l'obiettivo di formare i ragazzi e di portarli alle competizioni per farli acquisire più esperienza possibile. Ecco, lo hai anticipato tu pochi istanti fa un team che si è presentato sia ai campionati italiani che ai campionati del mondo con grandi soddisfazioni e grandi risultati. Allora dicceli. Niente, allora al campionato del mondo per la categoria pizza in teglia siamo arrivati nei primi 50, 47esimi e quindi è stato già un grandissimo traguardo perché non ce lo aspettavamo e al campionato italiano siamo arrivati undicesimo mio fratello quattordicesimo io su 160 di categoria sempre pizza in teglia dove abbiamo riscosso comunque un grande successo tanti colleghi, anzi forse maestri che ci hanno spinto a continuare su innovazione a lavorare sempre su questa strada quindi speriamo che il prossimo anno andrà meglio al campionato del mondo dove non saremo più solo due molisani ma già ne saremo quattro e copriremo già sei categorie quindi diciamo che qualcosina si sta iniziando a muovere e speriamo che lo sia sempre di più. Pietro, sfatiamo anche un altro mito la pizza è solo napoletana? o è anche di Loccaravindola? non me ne vogliano i napoletani che sono dei grandissimi pizzaioli e grandissimi maestri ma io credo che in Molise ci siano dei bravi pizzaioli anzi forse bravissimi bisogna semplicemente avere un po' il coraggio di andare fuori, di competere di avere un po' di orgoglio soprattutto molisano visto che noi siamo molisani e secondo me possiamo iniziare a competere anche contro i napoletani che sono diciamo i maestri da sempre ecco infine un a due giorni in questa seconda edizione che terminerà domani sera qual è anche il programma di domani e quante persone lavorano dietro l'organizzazione della festa della pizza a Loccaravindola? allora il nostro team è formato dalle 12 alle 14 persone stasera ne siamo una decina domani sera arriveranno i rinforzi domani sera ci sarà una cover band di Liga Bue questi ragazzi sono bravissimi e per mettere mi voglio cogliere l'occasione per ringraziare la scuola di Ballo Time to Dance che ci segue sempre sono diventati dei nostri partner ufficiali così come lo sono i Gisa dei ragazzi bravissimi, disponibilissimi e quindi speriamo di farvi divertire quest'anno, domani sera e nei prossimi anni ed eccoci tra il pubblico della festa della pizza qui a Loccaravindola allora una bella tavolata di ballerini com'è questa pizza? è buona, è ottima ecco lei che cosa ha preso, che gusto? ho preso la margherita, la classica semplice e buona beh magari indicata anche per prendere un po' di energia prima di un bel ballo ballare certo, prima di una bella zumbata bene, anche lei alle prese con la pizza come l'ha trovata? è abbastanza buona buona? qual è secondo lei? simpatica? sì, esatto qual è la caratteristica un po' che l'ha colpita? la salsa il sapore? è il modo di fare fatto al volo così lei che gusto ha preso? margherita pura tipica bene ed eccoci qui ancora ai tavoli in compagnia del signor? è lì è mio figlio Nicolà bene, quindi è venuto con suo figlio lei di dov'è? di Montrotoni è mio figlio della Svizzera ah bene, quindi ha portato suo figlio della Svizzera ad assaggiare questa buona pizza è Sant'Anna com'è la pizza? era buona? è buonissima si trova bene la musica, l'atmosfera? stiamo al principio senta ma che dice suo figlio della Svizzera in pizza e chiedo scusa in Svizzera come la fanno la pizza? è tutto un altro sistema è il paese della pizza la Svizzera ma il prezzo che cambia quanto costa lì? è 16-17 franchi svizzeri una pizza margherita normale e qua costa 3 euro arrivi alla prossima Grazie a tutti.